La collezione di quest'anno di Luceplan insegna come sempre dell'essenzialità, della leggerezza e dell'innovazione tecnologica. L'azienda investe moltissimo nella ricerca e nella qualità dei materiali. Cavalchiamo l'onda del LED da tanto tempo, crediamo di essere dei bravi interpreti. Il LED significa tantissima libertà progettuale, cerchiamo di sfruttarla ai limiti. Il protagonista del film Luceplan di quest'anno è Amisol, disegnata da Daniel Rybakken, una lampada a sospensione che ha l'obiettivo di avere un altissimo impasto visivo occupando il minimo ingombro fisico possibile. La lampada vuole anche presentare dei materiali inediti, ha un riflettore con una membrana specchiata in argento e oro o un telo di fondente bianco. Un'altra caratteristica straordinaria è la possibilità di orientare Amisol nello spazio semplicemente agendo sulla lunghezza dei cavi di sospensione. Il secondo protagonista è Companion Circle, un allungamento della linea della famiglia Companion disegnata da Dania qualche anno fa. È una lampada dalle finiture di grandissima qualità, è in alluminio analizzato spazzolato. La presentiamo in varie dimensioni con la possibilità di aggregare insieme gli elementi per costruire dei chandelier di forme e finiture speciali. Il protagonista principale della collezione di quest'anno è senz'altro la lampada Ivy di Francisco Gomez Pass. È una lampada che racchiude in un unico elemento tutti gli elementi che di solito si trovano in una lampada, quindi corpo, sorgente, dissipatore, elementi elettronici. Ivy è composta da un circuito stampato flessibile che semplicemente piegandolo e inserendolo nella prete prende luce.